Vignola è stato l'artefice della vittoria bianco-verde sia quale ispiratore di ogni trama sia come tiratore pronto e pericoloso lo vediamo sfruttare al venticinquesimo un mancato aggancio di corti al trentunesimo poi egli mette a segno su punizione la rete della svolta ecco il missile partito dal suo sinistro e che si insacca imparabile da almeno 25 metri respinta genoana dalla metà campo lancio per il terzino schiavi che lascia surplassi iachini evita il tentativo di recupero di chiodini e manda al centro dove barbadiglio riesce a battere martina con un tocco felpato di piatto l'inconsistente ma assiduo pressing rosso blu ottiene alla mezz'ora il premio della massima punizione per questa entrata di osti su fiorini iachini calcia debolmente così che per tacconi non c'è nemmeno bisogno di una parata strepitosa per impedire al genova di modificare il risultato